Valla Guardia Medica dove aver avvertito alcuni persistenti dolori, ma una sede chiusa accade a Scanno, il borgo lacustre della Valle del Sagittario, una delle piccole capitali del turismo estivo. Nonostante l'incremento dei flussi e delle presenze in paese, il servizio di Guardia Medica resta attivo dalle 20 alle 8, solo 12 ore al giorno. Vietato sentirsi male di mattina o di pomeriggio, un problema più volte sollevato nel corso degli anni dagli amministratori. Fino allo scorso anno, per il periodo estivo, arrivava un altro medico a supporto per garantire la cobertura H24 dell'assistenza sanitaria sul territorio comunale, particolarmente importante vista la sconnessione con l'ospedale più vicino che quello di Sulmona. Il rinforzo è venuto meno negli ultimi mesi a causa della difficoltà da parte dell'ASL a reclutare figure disponibili in tal senso. È una carenza grave, considerando che qui è pieno di turisti e di fuorisede, commenta una operatrice sanitaria, che ha avuto bisogno in questi giorni della Guardia Medica, sulla stessa lunghezza d'onda e sindaco Giovanni Mastro Giovanni, che proprio a Scarno ha voluto una pista di aleri soccorso di protezione civile. Pesa tanto la carenza di servizi sanitari anche in chiave turistica, perché giustamente anche i nostri ospiti devono avere comunque il diritto ad essere curati in caso di emergenza e necessità. Purtroppo si verificano spesso anche questi casi e non riusciamo ad essere pronti con gli interventi. Intanto Scarno accorcia le distanze. A settembre arriverà un medico di base per rafforzare la filiera della sanità sul territorio, mentre la pista di alisoccorso e di alisuperficie sarà inaugurata entro due settimane. Sarebbe stato meglio metterle in funzione per l'estate. Tra luglio e agosto in 10 sono stati trasportati per le emergenze. Quindi c'è bisogno di un servizio pure H24, mentre H12, senza dottore. Se uno non ci pensa, se no sarebbe una preoccupazione.